Fusione fatta tra il Circolo La Nebbia a Boiano ed il Cus Molise. La notizia era già nell'aria da tempo. L'ufficialità è arrivata ed ora la nuova società dal nome CLN Cus Molise, dove CLN sta ovviamente per Circolo La Nebbia, è pronta ad operare per il prossimo futuro. Accordo fatto tra le parti il presidente Rivellino e Francesco Pietronti, titolare della squadra di calcio a 5 da una parte, e Nicola Dell'Omo dall'altra in rappresentanza del Sodalizio Matesino. Dal punto di vista tecnico scontata la conferma di Marco Sanginario sulla panchina della prima squadra. Dunque un accordo importante nell'economia del futsal molisano. Il presidente della neonata società CLN Cus Molise, Nicola Dell'Omo, ha provato in tutti i modi a mantenere il titolo nel centro Matesino. Impossibile però continuare senza una struttura adatta ad ospitare un campionato nazionale come quello di Serie B. A quel punto è nata l'esigenza di dare continuità al progetto Circolo La Nebbia, non solo a livello di prima squadra, anzi con maggiore occhio al settore giovanile, fiore all'occhiello del Circolo La Nebbia. L'idea è nata, dice Dell'Omo, per dare risalto alla nostra società e offrire una piazza importante per la categoria. Avremo la possibilità di giocare in una struttura di qualità come il Pala Unimol che dovrà rappresentare la nostra arma in più nelle gare casalinghe. Ringrazio il Cus Molise nella persona del presidente Rivellino e il Cus Molise Calcio a 5 nella persona di Francesco Pietronti per aver appoggiato questa idea. Questo è stato il primo passo verso la nuova stagione sportiva che ci vedrà al via nella prossima Serie B, ma che ci porterà anche a non disperdere i tanti talenti che hanno caratterizzato i campionati che abbiamo svolto nella stagione 2016-2017. Aggiungiamo noi la conquista dei titoli nel calcio a 5 di C1, allievi e calcio femminile. Una delle intenzioni del neopresidente dunque è quella di creare una struttura di settore giovanile nel capoluogo. Sulla scorta dell'esperienza degli anni passati che ha visto il Circo La Nebbia diventare unica scuola calcio elite del Molise anche grazie all'affiliazione con il Milan. Lo staff dirigenziale è già all'opera per non farsi trovare impreparato per l'inizio della nuova stagione e soprattutto per affidare al tecnico sanginario, confermatissimo, un team di qualità con un giusto mix tra calciatori locali e stranieri, caratterizzati dalla voglia di rendersi protagonisti in positivo ovviamente nella prossima stagione.